Abbiamo visto la genesi del 424 sudamericano, adesso dobbiamo passare a vedere la nascita del 424 europeo. La prima fase di avvicinamento fu rappresentata dall'MM ungherese. Per capire però la nascita dell'MM ungherese, un modulo di straordinaria portata rivoluzionaria che cambierà per sempre la storia del calcio, dobbiamo partire però dal sistema, da due squadre schierate uomo contro uomo secondo i dettagli del VM. Il tecnico dell'MPTK di Budapest, Marto Bukovi. E poi il CT della grande Ungheria, Arani Shapat, Gustav Sebes. Decisero di mantenere inalterato la M difensiva, con continui duelli uomo contro uomo. Mentre decisero di rovesciare completamente la V offensiva per creare scompiglio nelle maglie avversarie, soprattutto perché le marcature sistemiste erano molto rigide e dogmatiche, quindi un rovesciamento delle posizioni portava a un bel proprio turbine che scoinvolgeva la fase difensiva avversaria. Così le due ali furono arretrate leggermente di posizione, tanto che i due terzini spesso rischiavano di essere risucchiati. Il centro avanti, la terminale offensiva, fu arretrato verso centrocampo, così da liberare un altro spazio sui contattacco, mentre i due interni divennero i terminali offensivi e si trascinavano dietro i due mediani. L'8 era il centro avanti, il 10 era una sorta di seconda punta. In questo modo nacque così l'MM. che si perfezionava ulteriormente con l'abbassamento di uno dei due mediani, in questo caso il sinistro, fino a comporre una linea difensiva 4, sequela poi completata dall'ulteriore abbassamento come regista del finto centro avanti. In attacco restavano così le ali e la coppia di attaccanti. La difesa così tornò ad essere in linea a zona, con i due terzini, Buzansk e Lantos ad esempio nella Gran Ungheria che spingevano sulle fasce come ali, le ali che in fase di non possesso retrocedevano, mentre i centrocampisti e i difensori dovevano portare il pressing sulla squadra avversaria in modo da innescare subito gli attacchi che erano condotti dal centro avanti di manovra hidegutti ed era finalizzato dalle due finte mezze punte Puskas e Kocsis. Il tipico movimento della Gran Ungheria era il cosiddetto movimento a pendolo del finto centro avanti che risucchiava lo stop avversario e poi mandava negli spazi una delle due mezzali che poteva correre liberamente a rete. Come abbiamo visto il 4-2-4 sudamericano si era formato come emendamento del diagonale tuttavia anche nel settore offensivo furono apportate delle modifiche. In attacco continuava a funzionare la diagonale tra mezzala destra, mezzala di punta e alla sinistra con il centro avanti che doveva liberarsi dello stopper per favorire col gioco di sponda l'insedimento della mezzala di punta. Mentre in fase difensiva l'ala sinistra diventava un centrocampista aggiunto fino a formare una sorta di 4-3-3 con l'ala destra, in questo caso il famoso Garrincia nel Brasile del 78 che continuava ad avere prerogative squisitamente offensive. Alla fine degli anni 60 in Europa il 4-2-4 entrò in crisi. Il gioco sempre più fisico, i ritmi sempre più frenetici del calcio europeo obbligarono infatti 7 squadre a infoltire il centrocampo utilizzando ali e centrocampisti con compiti sempre più difensivi. Nacquero così il 4-3-3 ed il 4-4-2 cosa che vedremo nei prossimi video.